Un cordiale saluto, bentrovati a Prevenzione e Salute, la trasmissione realizzata da TCA Trentino TV in collaborazione con l'azienda provinciale per i servizi sanitari del Trentino. L'argomento di oggi, come vedete alle mie spalle, parliamo di Trentino Emergenza 118 e del pronto soccorso. Ne parleremo con i responsabili, vediamo quali sono i servizi offerti, le modalità di accesso, insomma cercheremo di darvi alcune notizie sicuramente utili e dei consigli di come muoversi in caso di situazioni di emergenza. Dunque sentiremo il dottor Zini, responsabile di Trentino Emergenza, e il dottor Iseppi, che è coordinatore provinciale del pronto soccorso. Il dottor Alberto Zini è il responsabile di Trentino Emergenza 118. Allora, dottore Zini, che cosa si intende per sistema di urgenza-emergenza? Il sistema di urgenza-emergenza è in pratica quell'organizzazione che la provincia si è data per rispondere ai problemi appunto dei pazienti in emergenza. È un gioco di parole. Persone che per malore o per trauma abbiano necessità di interventi in tempi rapidi. È un sistema che si è dato secondo degli standard nazionali, che ormai esistono tanti anni, assicurando un sistema di emergenza extra-ospedaliero, una centrale operativa con la possibilità di inviare dei soccorsi, e un sistema di pronto soccorso ospedalieri, a cui poi afferiscono i mezzi di soccorso del 118 e a cui afferiscono anche direttamente e in gran parte gli stessi cittadini. Qual è il ruolo del 118? E' appunto questo, avere una centrale operativa che possa recepire rapidissimamente, con una semplice telefonata, al numero 118, il problema contingente del paziente. Il malore, il trauma, che ha creato grossa prensione, quantomeno, e grossa preoccupazione per le condizioni del paziente. In questo contatto telefonico i nostri operatori, che sono addestrati, riescono a capire e decidere quanto è critico quello che gli stanno riferendo i pazienti, decidono che tipo di risposta dare, quali mezzi far intervenire, ambulanze, autosanitari, elicottero. Dopodiché la centrale operativa segue il soccorso sul campo e, a secondo della gravità delle condizioni del paziente, il problema riscontrato, decide anche se trasferirlo in ospedale e in quale ospedale della provincia sia bene appoggiare quel paziente. Vediamo meglio come è strutturato il 118 sul territorio. Allora, una centrale operativa, 24 ore su 24, risponde a qualsiasi richiesta e si avvale poi della possibilità di mettere in movimento delle ambulanze da 43 postazioni distribuite su tutta la provincia. Postazioni che noi chiamiamo di soccorso di base, sono ambulanze con equipaggi di tecnici, dipendenti dell'azienda, di volontari addestrati al riconoscimento del problema del paziente e al sostegno di base delle funzioni vitali fino all'uso del defibrillatore semiautomatico. A queste 43 postazioni di base si aggiungono 12 postazioni di soccorso avanzato, praticamente una per discreto sanitario, dalle quali la centrale operativa può mettere in movimento degli infermieri di emergenza che intervenendo direttamente sul paziente si mettono in contatto in tempo reale con il medico di centrale 118 e riescono a fornire un soccorso avanzato, cioè infusione di liquidi, somministrazioni di farmaci, su prescrizione del medico in quel momento. La centrale operativa poi ha una grandissima risorsa nell'elisoccorso, che sappiamo che nella nostra provincia è attivo da sempre, dall'alba al tramonto, ma da diversi anni, e lo sfruttiamo nei mesi invernali, è in grado anche di volare il nostro di soccorso oltre il tramonto, cioè con una modalità di volo chiamata volo notturno, che attualmente copre fino alle 21 di sera, quindi ore di buio, dei mesi invernali. Spieghiamo a chi ci segue quali sono le modalità di accesso. Una telefonata, una telefonata al 118, riferire chiaramente qual è il problema, che cosa è successo, a chi, probabilmente se non è l'interlocutore, è l'operatore che chiederà le condizioni di questo paziente, è cosciente o non è cosciente. Se è cosciente, di che cosa si lamenta, che disturbia, e se non è cosciente, questa è già un'indicazione allarmante per la centrale operativa, eventualmente può integrare con altre informazioni, se per caso riconoscono la presenza di un respiro oppure no. Attiva il soccorso e nei casi più gravi, una cosa molto importante, in questi anni in provincia di Trento si è fatto molto, si sono molto diffuse anche le nozioni di primo soccorso, in ambito scolastico, ma non solo, soprattutto in ambito lavorativo, e la centrale operativa è in grado molte volte, quasi sempre direi, di riuscire a indurre nei presenti, sul luogo, dei comportamenti utili, necessari, in quei primi momenti, in attesa dei soccoritori 118. Quindi la centrale assiste anche questo primo soccorso estemporaneo, occasionale, che può essere fatto. Tempi di risposta? Immediati. Ha telefonato ovviamente un accesso immediato, ci può essere qualche secondo di attesa, se si sovrappongono, ma abbiamo molte linee, molti operatori attivi. La risposta, allora, partiamo dall'elisoccorso. L'elisoccorso, questa risorsa è importante, e nella fase diurna raggiunge in 12 minuti pressoché la periferia della nostra provincia, con qualche minuto in aggiunta sul nord-est, verso la nostra Val di Fassa, insomma, Cannazei. Le ambulanze partono immediatamente, e per la distribuzione che ricordavo prima, abbiamo dei tempi di intervento in pochi minuti nei centri abitati, e la maggior parte del territorio, territorio alpino, come siamo noi, viene raggiunta nello standard nazionale entro i 20 minuti. Oltre a questi 20 minuti abbiamo delle situazioni logistiche del tutto particolari, come alcuni passi, eccetera. Questi tempi di intervento, come ripeto, i pochi minuti sono compatibili anche con un'azione diretta da parte dei soccorritori sul paziente, ma quando l'attesa si comincia a fare sui 5, 10, 15, o addirittura 20 minuti, diventa giocoforza molto importante il contributo che può essere dato dagli astanti, dalle persone presenti sul paziente in quel momento lì, seguendo le istruzioni e le indicazioni date dalla centrale operativa. Il dottor Paolo Iseppi è direttore del pronto soccorso di Rovereto, nonché coordinatore provinciale del Dipartimento di Emergenza Urgenza dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. Poco fa il dottor Zini ci ha ricordato che il sistema, la rete anzi, del pronto soccorso, è inserita nel sistema dell'emergenza urgenza. Dunque, dottor Iseppi, il ruolo del pronto soccorso? Ecco, nella rete è quello degli snodi. I pronti soccorsi sono gli snodi della rete, sono i punti in cui i servizi territoriali incontrano i servizi ospedalieri e in cui il paziente traghetta dall'ambulanza al lettino di visita in pronto soccorso. I pronti soccorsi rispondono ad una domanda che è implicita nella mission dell'unità operativa, l'operativa dedicata all'individuazione e al supporto rapido dei pazienti a rischio di vita e ad evitare l'aggravamento di situazioni patologiche presenti al momento del primo contatto. Il pronto soccorso, peraltro, non fa solo pazienti critici, non affronta solo problematiche complesse, ma risponde a tutta la domanda sanitaria che dal territorio giunge all'ospedale, secondo priorità clinica, adottando un sistema di prioritarizzazione dei pazienti, degli accessi dei pazienti alla visita medica secondo uno schema ormai noto e condiviso con la popolazione che è quello dei codici colore del TRIAS. Come è organizzata la rete sul territorio provinciale? Noi in provincia di Trento abbiamo due ospedali di riferimento che sono l'ospedale Santa Chiara di Trento e l'ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto. In queste due sedi vi sono dei pronti soccorsi ad attività complessa integrati dalle funzioni dei diversi reparti e servizi che vi sono all'interno dell'ospedale. Nelle valli abbiamo cinque ospedali di distretto che operano in risposta a quelle che sono le urgenze che insorgono sul territorio di riferimento e garantiscono la stabilizzazione del paziente prima della centralizzazione verso gli ospedali di riferimento quando l'ospedale di distretto non è in grado di dare adeguata risposta ai bisogni del paziente stesso. Ritengo assolutamente importante, proprio per definire il ruolo degli ospedali di distretto, ricordare che meno del 20% dei pazienti che accedono all'ospedale di distretto viene poi trasferito agli ospedali di riferimento. C'è una grossa autonomia degli ospedali di distretto dunque nella gestione dal meno l'80% della domanda. Le modalità di accesso quali sono? Le modalità di accesso sono nella nostra situazione mediate dal 118 solo in un numero minoritario di casi avviate dal medico di medicina generale in alcuni pochi casi per lo più il pronto soccorso resta come punto di accesso per tutte le persone che hanno un'urgenza sanitaria all'accesso diretto rappresenta più del 60% della quota di accessi dei pazienti ai pronti soccorsi. Tempi di risposta, ogni tanto una nota dolente? Sì, nota dolente da un certo punto di vista ma ha significato di selezione corretta fatta. Tempi lunghi di attesa per i pazienti con codice minore corrispondono in un trattamento di numerosi pazienti con complessità cliniche e un impegno di risorse per i pazienti più gravi. Prima di chiudere vi proponiamo alcune interviste per vedere che cosa ne pensano i cittadini, gli utenti in sostanza del pronto soccorso o comunque di Trentino Emergenza dei servizi offerti. Signora, aveva mai avuto modo di provare i servizi del pronto soccorso di Trento oppure il 118? Se sì, come li trova? C'è qualcosa da migliorare? Sì, li ho provati, non in prima persona ma come mamma e come moglie perché ha avuto dei problemi sia mio figlio che mio marito e li ho trovati abbastanza buoni e hanno aderito alle richieste dei miei familiari procurandogli il solevo che doveva fare. Sì, li ho provati e devo dire che rispetto a dove abitavo prima a Milano va tutto molto bene qua. Ecco, Milano, facciamo allora un paragone perché si dice sempre le grandi città, la piccola provincia, in talunni casi si dice la provincia di Trento provincia ricca, può permettersi di più. È vero quindi, noi stiamo meglio? Per me sì. Dove si vede questo personale, tecnologia? Sicuramente, dalla sanità, dal personale, dai tempi d'attesa. Un volto noto nel panorama della sanità e rappresentanza trentina, lei che ci lavora all'interno, come vede il servizio, guardandolo con gli occhi degli utenti? Insomma, le persone si lamentano per quanto riguarda il 118, il pronto soccorso. Allora, io concordo con lei. Prima di tutto sono anch'io un utente del servizio sanitario. Allora, non posso che dire che il servizio sanitario trentino è un livello veramente buono su questo. Poi, dimentichiamo sempre che la salute non è come altri ambiti, come la matematica, mi permetta la banalità della cosa, dove purtroppo esiste una possibilità di situazioni totalmente diverse che sono molto difficili da programmare tutte quante. Credo che siamo molto fortunati e dovremmo a volte fare una riflessione ognuno di noi su come utilizziamo anche la sanità. Quindi, dica, mi creda, siamo veramente a un livello molto, molto di eccellenza. Ma, sinceramente, non saprei come... dove trovare qualche considerazione di negativa riguardo alla sanità trentina, forse... In questo modo, lei parla da utente più che da rappresentante del settore sanitario trentino. Certamente da utente. Io ho avuto varie occasioni nelle quali sono stata costretta a rivolgermi alla sanità di Trentina, a parte un caso di mio padre nel quale era richiesta una lunga degenza e quindi, purtroppo, non era possibile trovare un posto letto in tempi brevi. Poi, per tutto il resto, devo dire che rispetto al resto d'Italia, io viaggio molto per lavoro in Italia e devo dire che la situazione è nettamente migliore in Trentino. Io non posso altro che parlare bene dei servizi che ho dovuto usare. Pronto soccorso, per esempio? Pronto soccorso, proprio, in aprile. E come si è trovato? Bene. Ho avuto risposte in tempi brevi, rispetto alle richieste? Solicitudine e cortesia. Promosso? Senz'altro. Non ci sono tempi di attesa troppo lunghi se si ha davvero bisogno di un'urgenza? No, 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 no. La cortesia, cioè, l'ha riscontrata anche lei? Noi l'abbiamo trovata. È tutto per Prevenzione e Salute, grazie per l'attenzione e l'appuntamento torna, come sempre, la prossima settimana. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.